Serata di solidarietà domani alle ore 20 presso Pizzarte in via Rosario a Battipaglia. Si tratta di una raccolta fondi per Mattia, un bimbo di Battipaglia che ha bisogno di costose cure mediche a causa di una patologia rara. Grazie all'organizzazione di produttori, terre e orti e quattro birrifici artigianali locali, la cena sarà completamente gratuita, al termine verrà richiesta un'offerta spontanea da devolvere per le cure del piccolo Mattia. L'evento inoltre sarà coordinato dalla giornalista Maria Rosaria Sica e vedrà la partecipazione anche di varie testate giornalistiche, politici ed imprenditori locali. Sarà possibile quindi trascorrere una serata conviviale e nello stesso tempo dare un piccolo contributo per Mattia.